Uomo e scimmie hanno avuto un antenato comune e i nostri cugini, le nostre scimmie più vicine dal punto di vista evolutivo, sono i bonobo e gli scimpanzè. Con queste due scimmie condividiamo un antenato comune che è vissuto sulla Terra circa 6 milioni di anni fa, ma è molto molto diverso dalle scimmie che conosciamo adesso e anche da Homo sapiens. E la cosa assolutamente importante è che Homo sapiens non discende da nessuna delle scimmie attualmente in circolazione. Quindi possiamo dire che gli scimpanzè sono nostri cugini, ma sicuramente non sono nostri genitori. Anzi, la cosa interessante da sapere è che rispetto a questo antenato comune, gli scimpanzè sono probabilmente molto più evoluti rispetto a quanto non lo sia l'uomo, cioè l'antenato comune era molto più simile all'uomo di quanto non lo sia agli scimpanzè.